Stiamo facendo bene, siamo contenti, è il lavoro della squadra, non è soltanto il lavoro difensivo della difesa, ma è il lavoro di tutta la squadra. Si sacrificano prima di tutto gli attaccanti e gliene siamo grati perché poi riescono anche a far gol. Siamo felici, ci godiamo il momento ma non troppo. Sì, questa partita rispetto alle ultime è un po' cambiata perché abbiamo fatto meglio il primo tempo rispetto al secondo, mentre le altre partite facciamo meglio il secondo rispetto al primo, però abbiamo vinto 2-0 e siamo felici, va bene così.